Prendere il via il prossimo mercoledì 26 ottobre la maratona di iniziative rientranti nel progetto Cerrano Family Festival inserito nella più ampia iniziativa Abruzzo Open Day Winter. Fino al 1 novembre nei comuni di Atri, Rosetto degli Abruzzi, Pineto e Silvi si terranno appuntamenti legati alla cultura, allo sport, alle tipicità e alla creatività con l'obiettivo di mettere in rete le attività degli interventi dei diversi soggetti che agiscono nei processi culturali di promozione del territorio e di valorizzazione del patrimonio storico artistico e della cultura dell'area del Cerrano. Atri punterà sulla creatività, Rosetto degli Abruzzi orienterà il suo operato verso iniziative legate alla gastronomia, Silvi oltre all'attenzione per la gastronomia darà spazio anche a mostre fotografiche legate alle donne alle tradizioni locali, Pineto invece punterà sullo sport. Il valore aggiunto è la cooperazione, il fatto che partendo dal territorio la regione non si affida più a una politica dettata dall'alto, è una politica bottom up che vuole coniugare le esigenze del territorio ma le vocazioni del territorio e qui siamo alla presenza di forse uno dei territori più belli di questa regione, le terre del Cerrano, Roseto, Atri, Pineto e Silvi messe insieme che fanno questo valore aggiunto che da soli forse comporterebbe una visione piuttosto pauperistica e non consentirebbe una programmazione più seria e più a lungo termine. Sono stati costruiti diversi appuntamenti, Atri si occupierà appunto dei giovanissimi con laboratori creativi, quindi diamo la possibilità ai giovani nell'arte di esprimere le loro attitudini. 29, 30 e 31 il Palazzo Ducale si trasformerà con i mattoncini Lego in un'area gioco e dispositivo straordinario. Per la prima volta insieme costruiamo un progetto per questo splendido territorio che sono appunto le terre del Cerrano. Abbiamo lavorato tutti assieme, abbiamo ottenuto direi un buon risultato.